in questo esercizio voglio mostrarvi come utilizzare lo scripting all'interno del p flow senza però scendere troppo nel dettaglio poiché è un aspetto che solitamente viene lasciato a coloro che sono specializzati in linguaggi di programmazione tenete conto che tale aspetto sia approfondito per bene può rendervi degli artisti molto forti oltre ad avere maggiore libertà nel lavorare con molti tools personalizzati da voi creati nel settore della computer grafica personalmente preferisco lasciarlo a coloro che sono più rigidi e metodici come mentalità e quello che vi mostrerò è come poter utilizzare alcuni semplici script molto comuni all'interno del particle flow facciamo un salto indietro e descriviamo un secondo la scena e quello che vogliamo ottenere fino a qualche anno fa prima dell'integrazione delle n particles per ricreare effetti per associare le geometrie alle particelle si utilizzava solo il birth script e questo portava a dover per forza passare per il mass script abbiamo già preparato una scena con un box il quale è stato spaccato in più parte tramite il tools gratuito fracture che potete reperire sul sito script spot.com quello che vogliamo fare è associare le particles ad ogni singolo elemento per poterlo muovere gestire all'interno del nostro flow bene quindi apriamo il particle view ed iniziamo ad inserire i nostri operatori empty flow come sempre birth script come possiamo notare di lato abbiamo la possibilità di accedere al nostro script quindi apriamolo ed analizziamolo velocemente esso è diviso in quattro grandi parti nella prima vengono definite le condizioni o meglio i channels o le proprietà e di loro comportamento nella prima riga per esempio troviamo scritto p count use time true cioè particle container p count userà il fattore tempo time vero o falso in questo caso vero poiché abbiamo true come condizione di seguito troviamo altri valori come l'età age la posizione position e la velocità speed che sono le condizioni iniziali che dobbiamo avere in tutti i nostri flow di fatti se ci spostiamo sulla timeline notiamo che le particles vengono generate con un moto ben preciso l'unico valore di input che possiamo impostare esternamente è l'emitter start ma torniamo al nostro script nella seconda parte possiamo definire un comportamento ulteriore delle stesse ma per ora è vuoto poiché nelle parentesi non vi è nessuna espressione o condizione citata scritta successivamente troviamo una parte importante cioè il procedimento del flow nel quale troviamo alcune variabili importanti t1 time one associato all'inizio della timeline t2 time true associato alla fine della timeline in realtà esse sono vincolate da un if quindi un se e se continuiamo a leggere troveremo scritto che se t1 è minore di zero allora t1 sarà uguale a zero e se t1 è minore di 100 per 160 cioè pari a 100 frame farà quindi un do per ogni i saranno valide le condizioni sotto elencate i in questo caso è la variabile che consente di generare determinate situazioni e quindi la possibilità di avere infinite possibilità vediamo cosa succede se variamo leggermente alcuni valori ad esempio se cambiassimo o meglio invertissimo le informazioni della posizione del seno ed coseno concetti puri della geometria ed alcuni valori numerici nel tempo una volta modificate premiamo control e che sarebbe per attivare il nostro script come vediamo siamo riusciti a variare alcuni valori ottenendo un qualcosa di diverso dalla situazione di partenza ora non mi voglio addentrare in tale percorso molto arduo e che preferisco lasciare a voi se avete voglia di approfondire la programmazione dello stesso voglio però mostrarvi come utilizzare qualcosa di già esistente e quindi cancelliamo tutto lo script e copiamoci dentro quello che trovate allegato nei file di download e vediamo di analizzarlo insieme nella prima parte come già detto andiamo a fissare delle condizioni in generali ed in questo caso on channel used p count do p count use age use tm use shape quindi età sarà la nostra age per il tempo con la variabile tm e la forma con la shape all'interno del initial particles container diciamo che il nostro array chuck array sarà uguale a tutti gli elementi selezionati con il nome fragment tramite il simbolo del dollaro e di considerarlo come array infatti troviamo scritto global chuck array fragment as array nel procedimento invece avremo che t sarà uguale al time start impostato come variabile float quindi al valore esterno e se t è minore di zero allora la nostra serie array dovrà comportarsi come segue dobbiamo aggiungere delle particles le particles di index saranno uguali al numero di particles iniziali la vita sarà pari a zero la variazione nel tempo sarà in base alla mesh la forma quella della mesh del nostro array infatti troviamo scritto p count add particles p count particles indes uguale p count number particles p count particles age uguale a zero p count particles tm uguale chuck array transform p count particles shape uguale a chuck array mesh l'ultima parte la lasciamo così di default poiché non vogliamo che avvenga nulla come release cioè come aggiornamento di conseguenza dobbiamo assicurarci che tale script sia chiuso correttamente con le parentesi e che gli elementi in scena siano nominati correttamente per verificare la prima circostanza possiamo agire con un debug tramite il mass script listener f11 da tastiera e vedere se sono riportati degli errori per la nomenclatura invece basterà utilizzare il tools rename object sotto il menu a discesa tools una volta pronti possiamo nascondere le geometrie reali in scena e poi per esempio aggiungere dei defrettori o altri operatori per poter simulare ad esempio un effetto di frattura degli elementi come mostrato nel video piccolo consiglio assegnate dei colori facilmente riconoscibili alle geometrie che andate a frantumare oppure collocatele su un layer differente in modo tale che sarà più semplice selezionarle e nasconderle